Gli ex dipendenti della OM Carrelli di Modugno, che da mesi sono in presidio davanti ai cancelli per impedire all'azienda proprietaria, la Teresca Chion, di portare via i 250 carrelli elevatori già pronti, ribadiscono il proprio no allo smantellamento del presidio in cambio della promessa astratta della proprietà di trovare nuovi investitori. La secca risposta dei lavoratori giunge in replica alle dichiarazioni rilasciate dall'assessore regionale al lavoro, Leo Caroli, che si era mostrato soddisfatto per la proposta della Chion impegnatasi a trovare nuovi investitori, ma a patto che i lavoratori smantellino i presidi. La proposta era emersa da un incontro svoltosi lunedì scorso in assessorato tra organizzazioni sindacali, regione e Chion. A quanto pare i lavoratori hanno liquidato la proposta considerandola come un'offesa alla intelligenza e ai mesi di pioggia, vento e caldo torrido che hanno dovuto sopportare anche con le rispettive famiglie. Per i 223 ex dipendenti che da oltre due anni attendono risposte sul loro futuro, l'obiettivo della Chion, spiegano i lavoratori, è sempre lo stesso. Farci smantellare il presidio per riprendersi 250 carrelli del valore di circa 13 milioni di euro che sono stati già venduti. I sindacati infatti ricordano nella denuncia ai 29 lavoratori che impedirono alla Chion di entrare col camion e prendere i carrelli, ci sono anche i nomi delle aziende che li hanno acquistati. Quindi l'avvertenza è tutt'altro che a un passo dalla risoluzione come invece emerge dalle cronache locali. Questa mattina inoltre si è tenuta l'udienza in cui si è discusso della denuncia dei sindacati alla Chion per condotta antisindacale. Al termine il giudice ha augurato a tutte le parti buon dialogo, ma se il dialogo preludi allo smantellamento del presidio non si andrà da nessuna parte.